Ci sono quelli che se la tirano, quelli che non se la tirano, ma gli italiani diciamo che sono i peggiori. Un altro giorno abbiamo scoperto che si pagano 10 mila euro per fare i neti carpet, quelli che dopo non vedi sui film, in realtà pagano, le fotografano, per vedere se poi eventualmente ci sono alcuni che è là, gli immagini. Ci sono magari modelle, modelli che vogliono farsi vedere e se qualche giornalista li fotografa, se vengono visti da qualcuno, che magari hanno un bel viso, questo o quell'altro, se te la ricordi quella che fece il grande fratello Vip, era una modella brasiliana che qui era stata fotografata senza non so dire. Lei ha fatto quel vestito così, tutti hanno visto che... Però per dire... Lei è un'ottima, è un'ottima, è un'ottima.